Salve a tutti, con questo video voglio inaugurare riflessioni davanti a un panorama. Che cosa sono le riflessioni davanti al panorama? Sono riflessioni sulla natura del mondo, della natura della vita. Cosa voglio dire? Sono argomenti scientifici che io faccio e cercherò di fare ogni sabato, ogni sabato mattina quando posso, in cui praticamente invito a riflettere sul perché la scienza lascia poco spazio all'ipotesi sovrannaturale. Non perché è bastarda e cattiva, come sostengono alcuni, ma semplicemente perché, nascendo come metodo riduzionista, perché la scienza e la rivoluzione scientifica nasce come un metodo riduzionista, e questa non è un'accezione negativa, ma un'accezione di prudenza, perché il metodo scientifico ha valutato tutti gli errori che in passato ha commesso l'uomo nell'analizzare la natura, sia la natura umana, sia la natura degli esseri viventi, sia la natura stessa di come si è formata la Terra. E, nascendo questo metodo scientifico, poi si sono sviluppate tutte le scienze, la geologia, la vulcanologia, la sismologia, la chimica, la fisica, la matematica, che già c'era, e però si è sviluppata ulteriormente, la matematica applicata, la fisiologia, perché la medicina compie un salto in avanti con l'evoluzione della fisiologia. Spiegheremo in un altro video che cos'è la fisiologia, perché è proprio legato a quel discorso che stavo facendo all'inizio della possibilità del sovrannaturale, che si fa una possibilità molto molto più ridotta di quella che sostengono alcune religioni. Cioè, alcune religioni, secondo questa analisi scientifica della realtà, cozzano, si scontrano le religioni con quello che poi la scienza ha trovato. Ora, questo argomento io cercherò di semplificarlo al massimo, ma mi rendo conto che per farlo forse non ci riusciremo in questo video perché ho bisogno dei grafici, dei disegni, per farvi capire meglio di che cosa sto parlando. Quindi, in questo video mi limiterò soltanto a, in grandi linee, a definire un po' come si è scoperto che cos'è la vita, o almeno come si è sviluppata. Perché da questo qui possiamo comprendere veramente che cosa siamo, da questa cosa qui, che la scienza ha scoperto. Cioè, scoprendo questo, questa cosa qui, la scienza, ha veramente, ha veramente superato per sempre l'ipotesi creazionista. Perché lo stesso Charles Darwin, quando scoprì questa cosa, rimane sconvolto perché lui era un credente, Charles Darwin. Questo non vi dice nessuno. Dice, ma com'è possibile? Ma come sono credente? Allora ho creduto sempre in cose sbagliate, in cose errate, perché poi l'analisi scientifica mi dà un altro risultato. Non mi dà lo stesso risultato creazionista, mi dà un risultato evoluzionista. E allora, adesso, quindi, bisognerà parlare di che cos'è l'evoluzione. Ma non in termini banali, come fanno alcuni che tralasciano cose fondamentali, ma in termini, cioè, in termini della fisiologia. Perché se noi non vediamo l'evoluzione delle molecole semplici, molecole complesse, quindi le molecole da inorganiche sono diventate organiche. E il passaggio dagli organismi semplici agli organismi complessi, se noi non facciamo questo discorso, allora chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Perché è qui che si capisce cosa siamo. E allora, adesso cercherò di spiegarvelo. Una volta per tutte. Perché poi, una volta spiegato, voi ce l'avete chiaro, Poi ve lo spiegherò ancora meglio con i grafici, però adesso ve lo anticipo. Ma non è che è un'opinione questa, la scienza non è fatta di opinioni. Poi vi spiego anche questa cosa qui. Queste cose sono assodate, sono assodate dalla scienza, sono comprovate. Quindi non stiamo immaginando così, forse la vita si è sviluppata così. No, la vita si è sviluppata così, come vi starò per dire. Ma no perché io ho la conoscenza, io perché a mia volta, leggendo gli scienziati che hanno scoperto questa cosa, sto ripetendo semplicemente quello che gli scienziati hanno scoperto, non sto facendo opinionismo. E quindi, allora, senza mettere troppa carne al fuoco e dire troppo, andiamo al clou di come si è formata la vita. Stavo dicendo, dagli organismi semplici si è passati agli organismi complessi. E cosa sono gli organismi semplici? Voi avete presente gli organismi monocellulari? Ecco, le amebbe per esempio. Allora, milioni e milioni di anni fa, in quello che era l'oceano primordiale, se vogliamo, c'erano questi organismi semplici, monocellulari, che come vivevano. Allora, questi organismi semplici, praticamente, avevano una membrana, erano composti praticamente di acqua, non sarebbero potuti sopravvivere al di fuori dell'acqua. Ecco perché sono nati nell'acqua, perché nell'acqua cosa c'è? C'è l'idrogeno, H2O si chiama, e c'è sta l'ossigeno. Quindi loro, praticamente, cosa prendevano dall'acqua? Prendevano tutte le sostanze, cioè l'ossigeno, che gli permetteva di vivere. Perché, praticamente, cosa facevano questi organismi molto semplici, monocellulari? Prendevano l'ossigeno dall'acqua che li circondava e buttavano fuori, di riverso, anidride carbonica. Questo equilibrio tra l'incamerare ossigeno, metabolizzarlo e poi espellere, e quindi era un sistema di intrusione e espulsione. Quindi questo sistema di introduzione, mi è andato via il panorama, di introduzione dell'ossigeno e poi, quindi, di, come posso dire, di espulsione della CO2, consentiva a questi organismi monocellulari, e che cavolo, organismi monocellulari, colpo di scema, di vivere. Perché si era, appunto, instaurato un sistema omeostatico, si chiama in scienza, omeostatico. E questo sistema omeostatico consentiva alla vita di esistere, perché era un sistema ordinato a bassa entropia di queste molecole organiche cellulari, che gli consentiva, appunto, di sopravvivere in quell'ambiente che era l'acqua, che era l'oceano, che era il mare, insomma, il mare primordiale. Questi organismi, così semplici, non avrebbero mai potuto vivere fuori dall'acqua, perché erano intimamente legati a che cosa? All'acqua. L'acqua era il loro ambiente assolutamente naturale, nel quale, appunto, potersi evolvere e riprodurre. Ma essendo organismi, le cellule, asessuati, come facevano a riprodursi? Facevano una copia di se stessi. Quindi da una cellula, due cellule, tre cellule. Per andare allo scoperto, cioè in superficie, nella terraferma, questi organismi, a un certo punto, hanno imparato a diventare organismi complessi, come appunto mettendosi insieme, facendo dei condomini cellulari, se vogliamo, e questi condomini cellulari già erano più adatti a vivere in superficie. Perché? Perché, diciamo, che una cellula sola assolutamente dipendeva dall'oceano, ma più cellule, che a un certo punto con l'adattamento, appunto, dell'evoluzione, diventando cellule più complesse, con delle mansioni più adatte a prepararsi a vivere fuori, no? A un certo punto hanno creato un organismo in grado di portarsi l'acqua fuori dall'acqua. Che vuol dire? Vuol dire che le piante, i primi organismi semplici della terra, che sono della terra emersa, le piante, ma anche gli organismi che hanno imparato poi a muoversi, magari i primi organismi erano della specie di molluschi, io immagino che erano dei molluschi, magari avevano già imparato l'ossificazione, alcune molecole si erano organizzate per diventare conchiglia, per esempio, conchiglia, così piano piano ci si è avvicinati al passo successivo. Poi, queste cellule poi si sono specializzate sempre di più, noi dobbiamo immaginare che da queste cellule semplici, per far nascere gli organismi complessi, in milioni e milioni di anni, per tentativi ed errori, perché ecco cosa esclude l'ipotesi sovrannaturale, che io non la voglio escludere al 100%, attenzione, però non mi sento io di escludere al 100%, però io, essendo uno scettico e appassionato di scienze, so che gli studi vanno per l'evoluzione, cioè l'evoluzione tiene sempre conto della selezione cumulativa, e la selezione cumulativa avviene per tentativi ed errori, cioè queste cellule si sono adattate sempre di più per tentativi ed errori, quindi per questo c'è la biodiversità, perché chi è diventato mollusco, chi poi è diventato rettile, chi poi è diventato mammifero e chi poi eccetera eccetera, tutti gli organismi che noi conosciamo, insetti, che noi conosciamo gli uccelli, cioè che noi conosciamo muoversi sulla terra, la fauna, di cui noi non è che siamo distaccati noi, noi proveniamo dalla fauna, e cosa siamo noi, cos'è un organismo vivente, e quindi anche l'uomo, è l'insieme di miliardi di miliardi di cellule, noi in un millimetro cubo di sangue abbiamo il maschio 5 milioni di globuli rossi, che sono cellule, e la donna 4 milioni, un po' di meno, ma nel corpo noi abbiamo 5 mila miliardi di cellule, noi siamo composti da questi organismi semplici, siamo il risultato, l'assembramento specializzato di un percorso evolutivo durato milioni e milioni, milioni di anni, anzi miliardi, e noi siamo l'ultimo risultato, perché siamo comparsi sulla terra all'ultimo battito di ciglio dell'evoluzione, dopo i dinosauri, dopo tutte... quindi noi arriviamo a questo appuntamento con la vita, cioè l'uomo sapiens sapiens, all'ultimo momento, se noi dovessimo allargare le braccia e calcolare da una mano all'altra, in orizzontale, qual è il posto temporale che occupa l'uomo in questa lunghezza delle braccia distese in orizzontale, noi dovremmo prendere l'unghia che spunta dal dito indice. Quello è il nostro periodo evolutivo finale, dove queste cellule complesse hanno imparato a essere l'uomo, l'uomo sapiens, capace di guardare se stesso e la natura come nessun altro essere vivente. Quindi, se c'è qualcosa di incredibile, è questo, ma rimane nell'ambito della biologia, della microbiologia, non va. Poi, per andare oltre, ci vogliono le prove, ci vogliono le prove. Io non chiudo i boccaporti, la saracinesca, per carità, chi vuole credere, creda, perché ci stanno delle cose che effettivamente la scienza non riesce ancora a spiegare, forse non si spiegherà mai, perché non è detto che la scienza troverà una risposta a queste cose, una dimostrazione. Comunque, qui adesso stiamo parlando di come si è evoluto l'uomo, che dire che è stato creato con la bacchetta magica, quindi, è abbastanza banale. dire che a un certo punto è comparso perché Dio l'ha creato, come c'è scritto, per esempio, nella Bibbia, è un po' riduttivo. Poi, vai a capire quegli scrittori che cosa volessero dire, perché, guardate che se leggete bene la Genesi, ma mica ce ne sta una di creazione, ce ne stanno due, e non distaccate, ce ne stanno due abbastanza vicine. Poi, io lo trovo comunque un libro bellissimo, la Bibbia. La Bibbia rimane un libro interessantissimo, bellissimo, è il libro dell'uomo, il libro del pensiero umano. Io non mi sento di prendere la Bibbia, bruciarla, ma che stiamo scherzando? Ma uno scienziato non deve fare mai questo, non deve mai bruciare gli unicorni, la Bibbia, non deve mai bruciare i santi, fare... Quello l'ha fatto il comunismo, e ha sbagliato. Non è questo l'obiettivo della scienza, non è il negare, ma il vedere, il vedere. Ognuno è libero di vedere la realtà come vuole, se ci vuole vedere lo spirito nella realtà, è liberissimo, la scienza non deve chiudere gli occhi dello spirito, non ci mancherete chi si sente bene nello spirito, ci sono persone che invece si sentono bene nel pensiero scientifico. Per me la multi... come posso dire, la cultura, la monocultura, per me è il disastro dell'uomo, perché poi che cosa succede? Che la scienza non è che non apprezza gli errori delle superstizioni, la scienza si nutre di questi errori, perché paradossalmente gli errori delle religioni ci aiutano a comprendere meglio come è fatta la natura. Poi se uno scienziato si mette a parlare di al di là, io lo picchio, perché non è materia sua. Quindi non si azzardasse lo scienziato a parlare di al di là, perché quello è proprio un altro argomento. È come se noi parliamo di automobili e a un certo punto ci mettiamo a parlare di biciclette, però con la conoscenza delle automobili. E' assurdo! Cioè, capisci? È tutto un altro piano. Quindi, quindi, alla fine questo scontro fra scienza e fede, questo scontro fra scienza e fede lascia pure un po' il tempo che trova, diciamo. Perché appunto le cose non stanno così in modo semplice. Perché l'uomo poi di fronte alla morte non se ne fa una ragione. Perché l'uomo vorrebbe essere eterno. Ma io questo non lo escludo. Ma magari lo siamo. Ma vai a capire da dove veniamo e dove stiamo andando non lo sappiamo. Perché così come siamo comparsi per questo effetto dell'evoluzione che vi ho detto e un giorno sicuramente ci estingueremo però noi non sappiamo che cos'è l'universo intrinsecamente e questo dò ragione agli spiritualisti. Perché noi non sappiamo da dove nasce tutto se c'è una causa prima se siamo nati dal caso non credo sinceramente non credo anche io non credo anche se non credo nella tesi dell'orologio perché non ci stanno non c'è l'orologio in modo cioè nel senso non è che gli organismi si formano da soli però nel formarsi da soli anche per tentativi ed errori la vita dimostra di avere un'intelligenza quindi se noi dietro questo velo di maia ci vogliamo vedere un'intelligenza superiore uno spirito qualcosa che alleggia sulle acque come sta scritto nella bibbia no è il verbo di dio ma liberissimi anzi questo vedi ecco qui la bibbia ci aiuta a colmare le lacune della scienza perché noi praticamente abbiamo una bibbia che 3000 anni fa ci diceva di questo verbo di dio che ha leggiato sulle acque ma ci avessero avuto ragione ma noi non lo sappiamo mica cosa volevano dire gli antichi del sefirat io vi invito a leggere questo libro bellissimo che lo dovrò leggere anzi farò dei video su questo quando lo comprerò che parla del sefirat perché il sefirat è interessantissimo è come concezione di sviluppo dello spirito di dio che si differenzia da uno diventa due e poi dopo da due diventa altre cose ancora yin e yang il principio maschile il principio femminile che poi non è tanto diverso da quello che è successo negli organismi viventi perché gli organismi viventi all'inizio abbiamo detto erano una cellula sola asessuata poi quando sono diventati organismi la riproduzione è diventata asessuata aveva bisogno del maschio e della femmina quindi è in linea col sefirat perché anche nel principio del sefirat c'è yin e yang positivo e negativo il maschio e la femmina però io non sono manicheista io se volete non credo all'inferno perché l'inferno è stato creato come una cosa mitologica cioè addirittura si è scelto a pretesto la laguna scientifica di non sapere cosa fossero i campi flegrei o cose simili cioè il vulcanismo e là si metteva l'apertura Virgilio ci vedeva l'apertura della porta dell'inferno ci vedeva queste cose qui Virgilio ma non solo lui cioè quindi nelle manifestazioni del magmatiche che provenivano dal sottosuolo con lo zolfo e i gas velenosi che uccidevano gli animati e qualche volta pure gli uomini questi ci vedevano l'ade ci vedevano l'inferno ci vedevano perché effettivamente dal sottosuolo proveniva una causa di morte di un ambiente invivibile dove il contrario della vita e allora quindi a un certo punto l'immaginazione umana vedere questa cosa nel non spiegarsela geologicamente scientificamente a un certo punto ci ha dato un significato mitologico che ancora oggi sopravvive perché quando si parla di inferno si parla di zolfo ma lo zolfo la dove viene? viene dal vulcanismo quindi guarda caso i luoghi deputati sono pozzuoli e sono luoghi simili a pozzuoli nel mondo cioè quindi e con questo io non mi dilungherei troppo perché già ho fatto un bel video abbastanza vi saluto vi auguro a tutti un buon weekend riflettete su questo video che comunque secondo me spero sia utile per riflettere sia sulla materia organica e sia sullo spirito arrivederci grazie a tutti